Gran finale per Promessi Sposi in Fiera del Levante a Bari, con ospiti nazionali, è un'ottima risposta da parte di imprese e pubblico. La manifestazione, tra le più longeve d'Italia, dedicata al wedding made in Puglia, ha affollato con oltre 200 espositori il nuovo padiglione della campionaria, per guidare alle nozze i novelli sposi, dalla scelta del vestito a quella della sala, fino alla luna di miele, passando per l'organizzazione dell'evento in ogni suo dettaglio, tra show di moda, iniziative legate al food, un concorso nazionale, premi ed esibizioni del vivo di vari gruppi musicali. Durante le quattro giorni anche lo show dedicato alla moda sposi, presentato dalla showgirl Manila Nazzaro. Qui abbiamo davvero il fiore all'occhiello della nostra terra, di cui dobbiamo essere estremamente orgogliosi, perché ormai questa realtà, quella di Promessi Sposi, è davvero un fiore all'occhiello di tutto il sud Italia. Dobbiamo esserne orgogliosi e soprattutto dobbiamo farci forza di questi nostri punti di forza, che è appunto la cerimonia, la sartorialità, l'artigianalità, i tessuti, l'ingegno. Sarà l'aria buona della nostra terra, che fa anche gli abiti più belli al mondo in assoluto. Io sono made in Puglia e l'ho sempre detto a voce alta, estremamente orgogliosa della prima volta che feci l'annuncio per farmi eleggere Miss Italia. Da allora sono passati 23 anni, non è cambiato molto. È cambiato che forse un po' più di esperienza, ma il cuore batte per la mia terra esattamente alla stessa maniera.